È una rappresentazione che indica quello che è veramente la sezione metalmeccanica di Chieti e di Pescara e dell'intero Abruzzo. Non a caso una delle 60 sedi che ospiteranno oggi questa 132esima conferenza congiunta è proprio questa di Pescara-Chieti. Il metalmeccanico rappresenta in qualche modo il settore più importante del nostro manifatturiero italiano, 400 miliardi di fatturato, se pensate che ha l'8% di punti di PIL, ogni punto di PIL è 15 miliardi di euro, 190 miliardi di export significa un settore che è stato trainante almeno negli ultimi 50 anni. È ovvio che oggi saremo tutti qui a dare il nostro grido di dolore perché l'Italia non cambia, perché l'Italia non ha ancora una politica manifatturiera, una vera politica industriale di lungo periodo. La situazione in Abruzzo purtroppo non è delle migliori. Segue il trend nazionale, il meno 32% la produzione italiana, noi siamo poco sotto il 30% ma comunque è sicuramente una decrescita produttiva del nostro settore. La richiesta non solo alla regione, lo facciamo anche tutti unitamente nelle 60 territoriali al governo. Abbiamo bisogno di una politica industriale, abbiamo bisogno di riformare il sistema produttivo italiano, abbiamo bisogno di una semplificazione amministrativa seria, chiara, dove si possa fare impresa senza essere tacciati di essere speculatori. Oggi il profitto e la ricchezza deve essere redistribuito, deve essere distribuito però facendolo lecitamente ed in tempi rapidi. La ripresa per il momento è ancora lontana, ahimè. Ogni anno si butta in avanti di un anno la ripresa, questo lo facciamo già dal 2012. In realtà noi dal 2008 abbiamo una fase di declino, pochi trimestri sono stati positivi. Qui il manifatturiero in particolar modo ha registrato solo nell'agroalimentare qualche punto positivo, ma in realtà il trend generale è ancora negativo.